Bella ragazzi, qui è Nexus e questo nuovo commentary su Darksider 2 Dunque, nello scorso episodio ci siamo fermati qui Che adesso io ci penso, siamo arrivati da qua? Qui davanti a questo cancello non sono voluto entrare perché Credevo che venisse il tipo, quello che si teletrasportava Adesso vediamo Se non succede, ah vai che succedeva qualcosa Il tizio che si teletrasporta, come avevo detto io Stai calmo Dai, ma è una scala Ma è debolissimo Aspetta, mo ti eliminano con la pistola Un attimo, che cazzo? Sei stupiato? Che via, 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 via C'è debolissimo un paio di palla Poca vita, però è forte Perché manca? Sì, è il cavallo Se non mi vuole aiutare No, medici, che so, boss Inchia, 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 inchia Ma non capisco se si sta soffiando Una mia impressione Sta salendo sempre più di livello, questo è sicuro Era 16 Ma non capisco L Super Fixi Non capisco Lazione Uh, medikit! Vivo! L'ho preso. Che palle sta roba blu! Ah no, ti guarda da dove siamo arrivati, quindi no. Però la cosa mi puzza, è troppo facile. Uh, un'altra sfera. Mmm. E qua cosa c'è? A parte stopierla. Il vuoto. Ah, è una mappa. La pagina. Sette di dieci. Qui si può collegare sta roba blu. No, medikit intanto. Sono i medikit. Date i medikit. Solo soldi. Poi perché dovrebbe esserci di soldi all'interno di un trono? Non lo capisco. Dunque. Lì c'è un'altra palla. Anzi, andiamo un po' avanti per... Di là si scende. E fino a qui. L'ho capito. Allora, vediamo la mezza. Polleghiamo quello. Perfetto strada. Giriamo a staffare. E vediamo. Ho capito come si fa a farlo andare avanti. Anche fino a qui. Eh, dobbiamo farlo. Allora, cosa serve a collegarlo? Innanzitutto, tiriamo fuori il staffare. Poi. Eh, bebe. Questo. Facciamolo. Salire. E andiamo avanti. Però, cosa ci sarà qua sotto? Un cadavere. Poi? Niente. Solo un cadavere. Vabbè. Mi interessa. Spingiamo. Detto. Euh. Ah, no vinile. Ed ok. Fin qui. Boh, l'altro lo vediamo nel prossimo episodio. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.